Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1, in direzione Roma, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. Sulla FIPILI segnalato personale su strada per lavori, tra Ponte d'Era Ovest Ponsacco e il Bivio Pisa Livorno in direzione Mare. Sulla Statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori, tra Scarlino Scalo e Rio Torto in direzione Cecina. Sulla Statale 3 Bis Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori, tra Valsavignone e Canili in direzione Ravenna. A Firenze, fino a tutta la giornata di domani, divieto di transito in piazza Valdelsa per lavori edili. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio. Muoversi Toscana, città metropolitana di Firenze.